La pagina dello spettacolo 145 eventi per 33 giorni è stato presentato, il calendario del Campania Teatro Festival che partirà il prossimo 10 giugno. Anna Teresa Damiano. In due complicatissimi anni che hanno visto fermarsi storici eventi teatrali in tutta Europa è andato avanti sempre il Campania Teatro Festival. Esistenti per definizione in ritiro perenne sono 145 eventi con vaste esperienze internazionali e straordinarie esperienze italiane. L'edizione numero 15 dal 10 giugno al 12 luglio in treccio di 9 sezioni tra prosa, danza, musica, sport, letteratura, progetti speciali, 4 palchi nel parco di Capodimonte ma sono 10 le location a Napoli e altre 9 in tutte le province campane. Nomi internazionali da Daniel Lottei con il suo spettacolo musicale sui poeti francesi a Charlotte Rempring in Shakespeare Bach, dal coreografo svizzero Martin Zimmerman all'artista franco-siriano Ramzi Chukair perché gli sguardi su conflitti e violenze del potere sono ora più che mai centrali. 52 debutti assoluti, il festival lo apre Lina Sastri con La Mancanza, per il teatro italiano tra gli altri Paolo Endel, Filippo Timi, Massimiliano Gallo, Tato Russo, Elio Germano, Lello Arena. Per i materiali usati e la mobilità sarà Green, la quindicesima edizione organizzata come sempre dalla fondazione Campania dei Festival. Ci sono due capitoli di competenza regionale che non abbiamo tagliato, le politiche sociali e la cultura. La necessità di tenere viva la ragione critica, i sentimenti, lo scambio di umanità, la cultura è questo. Questo è un festival che dà lavoro a 1800 persone, garantisce a tutte le compagnie italiane di debuttare poi in tutti i teatri italiani da Milano a Caltanissette. Grazie.